Eccoci, abbiamo terminato e abbiamo la vincitrice di Master Queen Nordest 2019 E con me lei, Shanti Miller L'organizzatrice che anche quest'anno ha portato a termine questo concorso in maniera divina Ciao Shanti Ciao tesoro mio, ciao pubblico, ciao piccoli magazine Grazie mille veramente, con vero cuore, con tutto il mio cuore Grazie mille che vi seguite sempre, ma ovunque, qualsiasi richiesta che vi facciamo noi Non è che parlo solo di me stesso, ma parlo di tutti i nomi, di tutti i drag queens, tutta la comunità LGBT Veramente ci seguite, grazie mille per tutto, tutto, tutto Il concorso è andato alla grande, abbiamo fatto sold out, sono molto contento Quest'anno abbiamo superato tutti i limiti, è una soddisfazione grande veramente No, 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 abbiamo anche superato un record importante, quello dei premi alla vincitrice Premi alla vincitrice, è la prima volta nella storia del Trivenet Porta 3 milioni di premi a tutte le concorrenti, quindi Cosa devo dire? Bellissimo, però tutto questo grazie ai nostri sponsor Perché ovunque, senza i nostri sponsor, non possiamo andare da nessuna parte, vero? Perché ci credono in noi e ovviamente ci aiutano e ci sponsor, sostengono Quindi grazie mille di nuovo Vogliamo presentare la vincitrice adesso? Assolutamente, allora chiamiamo lei insieme, 3, 2, 1 Godest Vinos Ma ciao Godest Ciao Shantay, ciao Petaldo Ciao ciao Allora, è stato tanti mesi di duro lavoro E ho lavorato circa un 6-7 metri comunque per costruire tutto ciò Grazie ai miei ballerini, grazie anche al mio fidanzato e grazie a tutti quanti Io l'unica cosa che voglio dire è che mi ero promesso di portare l'arte sul palcoscenico E spero che questa sera comunque l'ho portata Grazie a te Shantay Miller che comunque devo dire che comunque mi hai seguito Ti ho tartassato, grazie, grazie, grazie veramente E spero che comunque porterò a Nazionale qualcosa ancora di più E quello che volevo dirti Hai adesso un impegno molto grande che sarebbe il Nazionale Quindi deve essere ancora più agguerrita, ancora più preparata E mi devi stupire Questo che vi chiedo Assolutamente, assolutamente Porterò, ora non so in mente perché ora mi godo la vittoria del momento Però porterò sicuramente qualcosa di molto 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 di più Non svelo ancora nulla Ho qualcosa in testa ma non svelo nulla Intanto veramente grazie a tutti Grazie al pubblico perché comunque il pubblico è la prima cosa Che comunque è grazie anche alla piccola magazine che comunque ci segue sempre Grazie mille a tutti quanti veramente Grazie, grazie Ciao Ciao, 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 ciao